Ciao, sono Antonio Beccaria e in questo video ti introduco alla conoscenza del nostro sistema operativo per ordini Kawasaki. Il nostro sistema operativo è su base software, quindi tramite programma ARCO. Vedremo in questo video come effettuo ordini di materiale Kawasaki tramite programma ARCO oppure come utilizzo il mio sito www.antoniobeccaria.it Veniamo nella parte catalogo figurato software, entriamo in Kawasaki, qui hai prodotti e listino, entriamo in prodotti, vediamo una breve panoramica del catalogo software, su Kawasaki trovi veicoli custom, fuoristrada, esempio il KX, quindi trovi vari modelli, quad, KFX, KLF, KSF, KVF, MUL, scooter, J125, J300 e tutti i veicoli stradali. Questo è quello che trovi all'interno del catalogo software di Kawasaki. Dopo questa breve panoramica andiamo a effettuare l'ordine. Questo è l'ordine che devo lavorare in questo video. Z750 ABS anno 2011. Andiamo sul catalogo. Nella descrizione inserisco Z750 anno 2011. Il sistema effettua il filtro. E vado ad acquisire il veicolo che mi interessa, Z750 ABS 2011. Entriamo all'interno del veicolo. Devo ordinare un filtro aria e un filtro olio. Andiamo all'interno del programma. Scrivo nel cerca nelle tavole filtro olio. Il sistema mi trova tutte le tavole che contengono la parola filtro olio. Quindi c'è la coppa dell'olio e la pompa dell'olio. E qua c'è il filtro. Ne prendiamo uno. È già pronta consegna. La aggiungiamo al nostro carello. Eccolo qua. Andiamo a prendere anche il filtro aria. Aspirazione. Filtro aria. Pronta consegna. Passiamo al secondo veicolo. GPZ 550 del 1984. Torniamo nel catalogo. Inseriamo GPZ cilindrata 550. Il sistema trova il veicolo. Entriamo all'interno delle tavole. Andiamo a vedere la parte carburatore ricambi. Ecco qua. Perché c'è da ordinare 4 guarnizioni vaschetta carburatore. Che sono queste qua. Questa è la vaschetta del carburatore. Queste sono le guarnizioni. Inseriamo 4 pezzi. E 4 valvole a spillo del carburatore. La valvola a spillo è questa qua. Valvola a spillo completa. Inseriamo 4 pezzi. E le abbiamo aggiunte nel nostro carrello. Passiamo al veicolo successivo. Che è un ER6F. Modello ECF. Anno 2012. Con questo numero di telaio. Il colore è nero 15Z. È un veicolo sinistrato. Moto incidentata. È fondamentale sempre fornire il numero di telaio per identificare il veicolo corretto. In quanto inserendo il numero di telaio nel portale, software, per quello che riguarda Kawasaki, si può trovare il veicolo corretto. Quindi andiamo nella parte filtri avanzati, telaio, incollo il numero di telaio, effettua la ricerca. E il sistema mi indica che è un ER6F. Modello EX650 ECF. Questa sigla è fondamentale per ordinare le parti verniciate. Adesso vediamo insieme. Vedi? Questo qua è il colore 15Z. Metallic Spark Black Nero. Perché l'altro è un Candy Lime Green, che è un verde. Quindi noi dobbiamo prendere le parti verniciate di questo colore qua. Entriamo all'interno del veicolo. Quindi, un fanale anteriore. Andiamo su Fanale. Anteriore. Eccolo qua. Un parafango anteriore. Io inserisco sempre i prefissi parola. Eccolo qua. Ecco, parafango anteriore. Ci sono vari colori. Perché le carrozzerie arrivano già verniciate in tinta veicolo. Il nostro modello ECF colore 15Z. Metallic Spark Black. E' esattamente questo. Proseguiamo con l'ordine. Un manubrio. Andiamo nella cerca nelle tavole. Scrivo manubrio. Andiamo nella tavola manubrio. E prendiamo il manubrio. E' già anche pronta consegna. Un pezzo. Una leva freno anteriore. Allora, leva freno. Andiamo nella parte pompa freno anteriore. Ecco qua. Leva freno anteriore. Un pezzo è già anche pronta consegna. Un coperchio frizione con relativa guarnizione coperchio frizione. Allora, andiamo nella parte motore. E andiamo a cercare i coperchi carter. Eccolo qua. Coperchi carter motore. Quindi parte destra. Qui abbiamo il coperchio frizione. E prendiamo la relativa guarnizione coperchio frizione. Perfetto. L'ordine è completo. Ora ti faccio vedere come lavorare tramite il mio sito. www.antoniobeccaria.it Andiamo sulla pagina antoniobeccaria.it Qui c'è la home con i servizi offerti. Entriamo nella sezione ricambio accessori moto. Qui hai una panoramica su tutto quello che è il settore moto. Questa è la pagina dove c'è anche il logo gilpi. Cliccando sul logo apre la presentazione per vedere tutte le informazioni. Ti fornisco questa nota. Per ordinare il materiale desiderato invia un'email a beccaria.antonio.gmail.com Non inoltrare ordini dagli e-commerce dei vari siti perché non sono controllati dal nostro sistema. Quindi hai a disposizione dei collegamenti, dei link che io ho preso un po' in giro per tutto il mondo. Sono dei portali che offro a titolo di favore dove puoi vedere gli esplosi e i codici ordine. Poi per ordine o eventuale preventivo mi mandi un'email in modo che posso fornirti quanto hai bisogno. Volevo farti vedere anche questa parte qua. Accessori originali. Cliccando su Kawasaki ti apre il sito ufficiale Kawasaki e possiamo entrare nella parte accessori. Ecco qua. Quindi accessori originali. Ci sono tutti gli accessori di moto stradali. Qua c'è o numero o lettera per andare alla relativa sezione. E poi ci sono off-road. Quindi moto stradali e moto fuoristrada. Per esempio noi dobbiamo fare l'ordine di un Vulcan 1700 Classic anno 2014, un portapacchi e un kit schienale passeggero. Andiamo quindi su la V, motostradali V, VN 1000 Vulcan 1700, questo qua. Allora c'è Vulcan, questo qua, VN 1000 Classic, eccolo qua. VN 1000 Classic anno 2014, perfetto. Dobbiamo ordinare un portapacchi originale e un kit schienale passeggero. Quindi portapacchi originale, eccolo qua, portapacchi base. Questo è il codice ordine, lo copiamo e lo inseriamo all'interno dell'ordine. Ok, incolla, perfetto. E ordiniamo anche lo schienale. Quindi kit schienalino, eccolo qua. Questo è il codice ordine. Copia. Incolla. E lo inseriamo, dice che in esaurimento però è ordinabile, quindi lo ordiniamo, registra e prosegui. Nel frattempo andiamo anche a scaricare tutto l'elenco di ricambi che abbiamo inserito nel carrello. Quindi andiamo su Importa da catalogo, selezioniamo l'inserimento automatico, il sistema inserisce automaticamente tutti i ricambi, quindi per filtro olio, registra e prosegui, ne prendiamo un pezzo, filtro aria, tutti i ricambi, benissimo. Ecco qua. L'ordine è completo. Tutto quello che è disponibile in pronta consegna posso spedirlo e facendo l'ordine o eventuali aggiunte entro l'ora 12 lo puoi ricevere il giorno successivo. Se invece sono ricambi da ordinare appositamente, inoltriamo l'ordine e la tempistica di consegna è stimata tra i 5 e i 7 giorni lavorativi. Benissimo, andiamo a completare l'ordine, quindi tutto completato. Per qualsiasi ordine e informazione sono disponibile al numero diretto 340-2561-690 oppure mi puoi contattare al mio indirizzo mail beccaria.antonio.gmail.com Se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile, condividilo con i tuoi colleghi professionisti del settore e clicca mi piace. Ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato e ci vediamo e ci sentiamo presto. Un caro saluto, Antonio Beccaria.